Un cordiale saluto da Andrea Biagiani di Florence Multimedia per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla FIPILI dove causa incendio si registrano rallentamenti tra Empoli Est e Montelupo Fiorentino in direzione Firenze. Possibili rallentamenti sempre in FIPILI ma a causa di lavori tra la Strassigne e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno. In A1 si ricorda che fino alle ore 6 di lunedì mattina rimarranno aperte le corsie di destra tra Firenze in Pruneta e Firenze Scandicci e lo svincolo di Firenze in Pruneta in entrata e in uscita in direzione Bologna. Cantieri di Firenze a causa dei lavori di Publiacqua in vigore un divieto di transito per i mezzi pesanti con massa superiore alle 3,5 tonnellate su Viale Matteotti direzione Piazzale Donatello nel tratto Piazza della Libertà via Cherubini. E per il momento è tutto Muoversi in Toscana realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie!